Amarezza fino a un certo punto perché può succedere, ripeto siamo nel mondo dell'edilizia quindi i programmi vanno molte volte ribaltati, è chiaro che tante persone si erano affacciate, tante persone avevano chiesto di poter partecipare a questa manifestazione e dover dire per l'ennesima volta guardate si rimanda ancora una volta l'appuntamento e va bene così. E' un appuntamento ribadisco solo rimandato però lo rimpiazziamo alla grande con questa serata in questa bellissima cornice che è il Teatro Romano che ci invita un po' tutto il mondo, una serata che credo sia anche abbastanza oculata perché fare un tributo a Renato Carasone che avevamo già in essere quindi non c'è niente di... L'abbiamo trasferito esatto, è un qualche cosa che secondo me qui in un'arena come quella del Teatro Romano che se voi andate a riguardarla bene architettonicamente parlando rispecchia molto l'arena di Verona dove è conosciuta per questi eventi secondo me dovrebbe essere un qualcosa fatta a rindondante. Ringrazio per questo sia il professore Creta che ha dato immediatamente la disponibilità sia gli artisti che si esibiranno quella sera che voglio ricordare assolutamente a titolo gratuito quindi non prenderanno alcun gettone e tutte quante quelle componenti che si metteranno in piedi saranno parte in causa per far sì che ci sia una manifestazione riuscita. Spero che potrà esserci un grosso afflusso di persone. Per quanto riguarda la gara se ne parla nel prossimo anno? Stiamo ragionando con la FIDAL perché vorremmo cercare di recuperarle in primavera però il calendario è veramente talmente fitto che dobbiamo vedere se ricevevano da loro un ok.